Oggi siamo qui a Tadexo, di che cosa ci ho? Tanto ciao a tutti, sono Felice Limosani e voi siete Pascal, giusto? Sì Conosco i vostri professori e in bocca al lupo ragazzi perché c'è molto da imparare e molto da fare in futuro Io mi occupo di creatività molto espansa La mia idea è quella di creare cose che prima non esistevano nel campo della cultura, della società e soprattutto della sostenibilità Ancora non è uscito sul palco del Tadexo, di che argomento tratterà il vostro talk? Parlerò della differenza che c'è tra l'incanto e l'incantesimo e parlerò di come in questo momento sto lavorando sull'attualizzazione degli archivi partendo da un pensiero di Derrida, un filosofo francese che diceva che gli archivi sono per definizione una premessa dell'avvenire quindi non qualcosa da custodire e mettere da parte ma qualcosa da preservare e trasferire agli altri Grazie! 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 Grazie!